Buongiorno a tutti e bentrovati a questo appuntamento con la scienza. Oggi tratteremo in generale aspetti riguardanti l'energia, in particolar modo quella presente nell'ambiente marino. Scorrendo l'agenda vedremo che cosa si intende per energia, vedremo quali sono le principali fonti di energia rinnovabile, vedremo in che modo è possibile recuperare l'energia dal mare e poi passeremo a vedere che cos'è e come funziona una tradizionale pila. Sapete che è inventato la pila? Il tema forse più interessante e meno noioso lo scopriremo insieme nella seconda parte della presentazione e vedremo come possiamo produrre una differenza di potenziale, una tensione elettrica, partendo da alcuni particolari tipi di batteri. Iniziamo con il concetto di energia. Energia è una parola ormai di uso comune. Ma come definisce il mondo scientifico l'energia? Semplicemente la definisce come la capacità di un corpo o di un sistema di compiere un lavoro. Esistono diverse forme di energia, si parla ad esempio di energia potenziale, termica, cinetica, elettrica, chimica, nucleare e ce ne sono tante altre. Forse la più facile da osservare è l'energia meccanica, la quale si concretizza in energia cinetica e in energia potenziale. Ricordo che per una nuota equazione della fisica relativistica, ogni corpo dotato di una massa possiede una sua energia. Aggiungerò di più. In natura non si perde nulla e una regola fondamentale è che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. L'esempio classico è quello del pendolo, che vediamo anche in figura. Durante il suo moto vi è una continua trasformazione dell'energia cinetica in potenziale e viceversa. Ma l'energia totale è costante. Definito il concetto di energia, quello che a noi interessa è identificare quali potrebbero essere le fonti naturali che possiamo trasformare per soddisfare le nostre esigenze energetiche. Sulla lastrina vediamo quelle che ad oggi sono le principali fonti di energia e alcune sono esauribili, altre no. Ma quali sono le fonti di energia rinnovabili? Vediamole. Partiamo da quella solare. Sicuramente è la più importante. Abbiamo poi quella eolica, idroelettrica, quella proveniente dalle biomasse, quella geotermica e quella invece propria degli oceani. Per fare un esempio di trasformazione energetica, in una centrale eolica si parte dall'energia del vento, quindi energia cinetica, che tramite le pale eoliche e un sistema di moltiplicazione di giri, muove un generatore, sempre energia meccanica, il quale produce una differenza di potenziale, abbiamo l'energia elettrica, che tramite un trasformatore viene immessa sulla rete elettrica. Un altro esempio lo abbiamo con i pannelli solari. In questo caso, anziché avere un complesso sistema meccanico per la produzione di corrente elettrica, abbiamo dei pannelli di silicio che, grazie alle loro proprietà fotovoltaiche, producono una differenza di potenziale che possiamo poi utilizzare. Analogo discorso vale per le centrali geotermiche. Si parte dal calore della Terra e si arriva alla rete di distribuzione passando da più fasi di trasformazione dell'energia. Abbiamo parlato di tutto ciò per arrivare a quello che ci tocca da vicino, ovvero recuperare l'energia dal mare e vediamo come. È possibile sfruttare diverse caratteristiche dei nostri mari, come ad esempio le correnti marine o il moto ondoso, oppure le maree. La stessa temperatura dell'acqua o la salinità possono essere utili per arrivare poi ad avere una generazione di corrente elettrica. Ora vi lascio vedere due simpatici video che illustrano le varie possibilità di recupero energetico dal mare. Il mare e gli oceani, che coprono ben il 75% della Terra, hanno enormi potenzialità energetiche. Masse gigantesche, incredibili quantità di energia cinetica che attende solo di essere imbrigliata. Oltre alle maree, il mare è costantemente rimescolato da correnti stabili e regolari, specialmente intorno a promontori, negli stretti, nei canali. Superficiali o più di profondità, le correnti marine sono dei veri e propri fiumi impetuosi. Senza costruire vighe o bacini artificiali, in questo caso si prende a prestito la tecnologia delle pale eoliche. La corrente marina innesca il moto rotatorio delle pale, che una dinamo trasforma in corrente elettrica. Fra tutte le energie rinnovabili, quella che sfrutta il movimento dei mari è l'unica, per ora, a non poter essere sfruttata con impianti di piccola taglia. L'energia delle onde viene catturata in mare aperto, grazie a grappoli di boi galleggianti nel mare o paratie galleggianti ancorate sul fondo nell'oceano. Si sfrutta così il movimento delle onde per produrre energia. Un altro metodo è basato sul gradiente termico, ovvero sulla differenza di temperatura tra l'acqua di superficie e l'acqua di profondità. Bene, arrivati a questo punto dobbiamo necessariamente fare un accenno a che cos'è la pila, per poter poi passare all'argomento più interessante e sicuramente più innovativo. La pila, inventata oltre due secoli fa, è il più diffuso generatore portatile di energia elettrica. È sostanzialmente una cella elettrochimica, chiamata anteprimaria, in cui la reazione elettrochimica può procedere solo in una direzione. Non va certo confusa con gli accumulatori, soprattutto perché nelle pile il processo di scarica non è reversibile. Il principio chimico-fisico di funzionamento di una pila non è altro che una reazione di ossidoriduzione. In pratica una determinata sostanza subisce un processo di ossidazione perdendo elettroni, mentre un'altra sostanza subisce un processo di riduzione acquistandoli. Per la configurazione fisica della pila si ottiene un flusso unidirezionale degli elettroni. Ora, consideriamo lo stesso principio di funzionamento della pila di volta, ma sostituiamo le parti solide contenute nell'involucro, zinco e carbone per esempio, con del materiale organico, con dei batteri, dei particolari batteri. Sappiamo tutti che in natura esistono un'infinità di famiglie di batteri che hanno funzioni diverse, caratteristiche diverse gli uni dagli altri. Quelli che interessano a noi vivono nell'acqua di mare. Stiamo studiando come produrre energia elettrica partendo dal metabolismo di particolari batteri presenti appunto nell'acqua di mare, realizzando quindi una vera e propria batteria biologica. Arriviamo quindi all'ultimo argomento. Molti di voi ci staranno chiedendo come facciamo a produrre corrente elettrica dai batteri. Vediamolo. Intanto definiamo i batteri. Sono della famiglia degli ex elettrogeni, cioè quei batteri che naturalmente rilasciano elettroni grazie al loro metabolismo. funzionano di fatto come biocatalizzatori. Una pila a combustibile microbiologica converte l'energia chimica in energia elettrica mediante la reazione catalittica di questi batteri. Come vedete schematicamente in figura, la pila è costituita da due compartimenti, uno che racchiude l'anodo e l'altro il catodo. Sono uniti da una membrana semipermeabile che permette unicamente il passaggio dei cationi. Nel compartimento dell'anodo, privo di ossigeno, il carburante viene ossidato dai microorganismi liberando elettroni e cationi. I cationi viaggiano al catodo attraverso la membrana mentre gli elettroni vi giungono mediante un circuito elettrico esterno alla pila. Elettroni e cationi vengono quindi ricombinati con l'ossigeno nel compartimento del catodo formando acqua. Vediamo qui a sinistra celle microbiologiche e sulla destra la situazione microscopica. L'andamento della differenza di potenziale generata come si vede dal grafico non è costante ed è strettamente legato al ciclo metabolico dei batteri. Vi ringrazio per l'attenzione buona giornata.